Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Un grave lutto ha colpito Sara Tommasi. Cinzia, la mamma dell'ex showgirl, è morta a causa di una grave malattia che l'aveva colpita da qualche tempo. La donna non ce l'ha fatta e su Instagram sua figlia Sara le dedica parole d'amore e profonda gratitudine. Ciao mamma si legge nel post, accanto a una delle loro ultime foto. Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa. Riposa in pace. Sara Tommasi si è rialzata dopo un lungo periodo buio proprio grazie alla famiglia, in particolare sua mamma, che le è sempre stata accanto e l'anno scorso ha vissuto la grande gioia di vederla convolare a nozze con Antonio Orso, l'uomo con cui ha iniziato una nuova vita. Nel 2019 Aleiene Sara Tommasi, colpita dal disturbo bipolare, aveva ammesso, mia madre mi ha presa per i capelli. Senza di lei sarai morta. Ora vive giorni difficili, ma può contare sull'aiuto del marito Antonio Orso. Lei e il manager si sono sposati il 21 marzo dello scorso anno. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.